Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ci fermeremo. Giovanni Floris, allora intanto quanto conta l'Italia anche in questo consesso di stasera Biden e gli altri quattro leader europei? Contiamo qualche cosa? Possiamo incidere? O invece avremo delle conseguenze pesantissime? Come dice Travaglio, alla fine pagheremo un prezzo molto alto? Meglio esserci che non esserci. Magari conti poco, magari conti di più, però in ogni caso ci siamo. Ci siamo aggregati, in ogni caso ci siamo. Ora il punto non è quello. Sai, ci sono delle similitudini con l'11 settembre, sono delle similitudini assurde. E molti l'hanno paragonato l'11 settembre a questa decenda. L'America non si aspettava quell'attacco, no? I giovani che lavoravano nelle torri sono come i giovani del Bataclan, i giovani del Bataclan sono come i giovani di Utoia, che ballavano tranquilli perché non si aspettavano nulla che potesse succedere. Quello che è assurdo è che ci fosse rave ai confini con Gaza. Quello che è assurdo è che se tu vai in Israele, se tu hai una macchina con targa di Israele e sbagli il svincolo dell'autostrada, rischi linciaggio. E sono 30 anni che questa situazione è stata rimossa anche da quei quattro che si vedranno, no? Come si sia pensato che si potesse vivere in pace o controllando una situazione come quella che è sfuggita al controllo questa volta di Netanyahu e su quello probabilmente che la comunità internazionale deve interrogarsi e su quello che gli israeliani devono interrogarsi, come è possibile che si sia pensato che Tel Aviv potesse somigliare a New York quando a pochi chilometri da Tel Aviv c'era quella rabbia, c'era quell'estremismo, c'erano i terroristi che si armavano, c'era la fame, c'era la rabbia. Come si è pensato? Queste sono generazioni che si sono formate pensando che a Israele si potesse vivere con quella situazione a pochi chilometri. Questo probabilmente è stata un'abitudine che ha fiaccato lo stesso Netanyahu, che si è occupato di altro, che si è occupato male. Molto anche di se stesso, hanno giocato la politica come se potesse essere un paese che può vivere in tranquillità. Allora, la comunità internazionale che da Oslo, come diceva Marco, da Oslo non si occupa più della questione. Noi siamo arrivati che Arafat, Rabin e Clinton si stringevano la mano, poi da là siamo arrivati a oggi e in mezzo c'è una grande rimozione collettiva di un problema che intanto è marcito e che poi si aggrega Meloni. Meloni è stata chiamata, ma cosa cambia?